A Taranto l'amministrazione Melucci Musillo ha trattato alcuni abitanti proprio da cittadini di serie D. Mi trovo a Lido Azzurro che fa parte del comune di Taranto. Potremmo definirla purtroppo la periferia delle periferie pur essendo una zona fantastica baciata dal mare però non gode di servizi, non ha fogna, non ha acqua, i marciapiedi, il manto stradale è disastrato. Insomma i cittadini pagano le tasse per non ricevere alcunché. Ho detto l'amministrazione Melucci Musillo perché Melucci è stato il sindaco, Musillo è stato il creatore di Melucci e ha governato con Melucci per quattro anni e mezzo avendo suoi rappresentanti nelle municipalizzate e in giunta. Quindi è politicamente gravemente corresponsabile con l'ex sindaco. E qui vedete lo stato di degrado assoluto in cui si trova proprio il manto stradale. Ci sono degli avvallamenti, dei dossi e delle cunette. Davvero l'asfalto è spacchettato, lo vedete proprio sembra un mosaico e camminando si cade, ma si cade terribilmente. Qui sembra quasi che vedete ci dobbiamo arrampicare. Guardate un po' cosa succede. Pensate al fatto che proprio qui c'è la fermata del bus senza una pensillina, senza nulla, quindi alle intemperie sotto il caldo, il sole coccente d'estate e la pioggia d'inverno. La povera vecchietta come purtroppo è accaduto in tante circostanze, giustamente deve salire il marciapiede per aspettare sul marciapiede l'arrivo del bus. Quando arriva il bus e intanto la poverina guardate che rischi che deve correre perché il manto stradale è tutto dissestato, l'asfalto è rotto e come si suol dire passate l'espressione gobbe-gobbe, appunto con parti rialzate e parti no, vedete qui cosa succede. È una situazione davvero oscena, immonda e quindi questo ovviamente crea dei problemi enormi. Tante persone anziane sono cadute. Peraltro ci sono persone che per trovare la prima fermata, questa, addirittura devono percorrere due chilometri, pensate un po' due chilometri per trovare una fermata e lo dovrebbe sapere molto bene la signora Monica Musillo, sorella di Walter Musillo che abita appunto in queste zone e avrebbe dovuto dire al caro fratellino i disagi della zona visto che il fratellino, ora candidato sindaco, ha amministrato con Melucci per quattro anni e mezzo. Evidentemente Musillo non avrà ascoltato neppure la sorella. Guardate qui, una zona bellissima, baciata dalla natura perché potrebbe essere una zona residenziale. Immaginate queste villette se davvero vivessero in una realtà in cui ci fossero i servizi. Qui non c'è l'acqua, lo ripeto, non c'è la fogna, non ci sono le strade perché non è possibile. Chi ma mobilità AMAT dice di usare i mezzi pubblici e cosa dice alle persone di Lido Azzurro? Di usare i mezzi pubblici con il rischio di cadere e spezzarsi una gamba? Come ripeto, lo ripeto, è accaduto a numerose persone anziane, a numerose persone anziane che ovviamente sono, come dire, le più fragili. Ecco, Lido Azzurro, la periferia delle periferie, sembra non appartenere al comune di Taranto purtroppo. D'altronde l'ex sindaco Melucci durante tutto il suo mandato in quattro anni e mezzo è stato rinchiuso all'interno di Palazzo di Città. Arroccato in quel palazzo, ha girato poco o nulla e sicuramente non sa neanche che questa sia Lido Azzurro e che ci siano queste problematiche. Forse ci arriva scortato con il navigatore, ma non ha davvero la benché minima idea di cosa sia Lido Azzurro. Per questo mi sono candidato sindaco per dare voce alle periferie. Ecco, la vivibilità nelle periferie. L'ho fatto in 21 anni da giornalista, tornando qui mi sono ritornati alla mente tanti ricordi, non è cambiato nulla. E io cosa potevo stare per altri 10-20 anni a ripetere le stesse cose? Amo Taranto e voglio cambiarla. Voglio cambiarla diventando primo cittadino, con l'umiltà, con lo spirito di sacrificio, con l'impegno. Per Taranto ho sempre lottato. Non è solo il mio slogan. È stata la mia missione, la mia storia. Basta guardare i miei video. Per questo vi chiedo la fiducia.